benvenuti sul canale della cucina di soleil nella video ricetta di oggi preparerò per supportare anche il mio video delle chiacchiere un gustosissimo e delicato sanguinaccio incominciamo con il riscaldare mezzo litro di latte nel frattempo prepariamo a parte una miscela e 250 g di zucchero 100 g di cacao amaro 40 g di amido di mais una bustina di vanillina e un cucchiaino abbondante di cannella misceliamo le polveri con una frusta per dolci aggiungiamo 100 g di cioccolato fondente sminuzzato e 25 g di burro e un cucchiaio di liquore tipo strega versiamo a questo punto il latte caldo e continuiamo a miscelare il tutto accendendo il fuoco a fiamma bassa fino ad ebollizione continuando a girare costantemente il tutto col passare dei minuti vedrete che il composto incomincerà ad amalgamarsi a questo punto spegniamo la fiamma affinché il composto continui ad addensarsi fino a presentarsi corposo e bellutato versiamo il sanguinaccio in una ciotola e mettiamo una pellicola sulla superficie per evitare il formarsi di una patina si può conservare il sanguinaccio in frigo anche sei giorni avendo premura di tirarlo fuori qualche ora prima della degustazione con le chiacchiere per la ricetta delle chiacchiere sopra troverete il link di collegamento ad una mia ricetta già pubblicata vi invito a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per ricevere la notifica per i prossimi video sperando che questo video vi sia piaciuto vi do appuntamento alla prossima ricetta ciao a tutti da alessandra della cucina di soleil